un tipo 300 milioni di dollari tipo chi vuole sa quitti a te lontanità a me si no 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 non credo come se dobbiamo farlo solo la sua oh hai rotto figa eh ma te stai ancora caricando ma cosa oi perchè siamo qua ma dove cosa ma cosa cosa tu hai rotto